Oggi torniamo a casa con rammarico e rabbia per questo risultato, per questa seconda sconfitta consecutiva. Sì, purtroppo adesso è il momento in cui le cose che abbiamo fatto nelle giornate d'andata non ci vengono più e purtroppo siamo consapevoli che dobbiamo dare di più e quello che stiamo dando non basta. Di certo abbiamo iniziato nei migliori di modi questo nuovo campionato di ritorno, il giorno di ritorno, però ci sono ancora tante partite e dobbiamo rimboccarci le maniche e sicuramente ognuno di noi deve fare molto meglio e lavorare più di squadra, quale siamo e quale eravamo nel giorno di andata. In spogliatoio avete detto qualcosa, anche tu, quali dei più esperti del gruppo? Cosa avete detto quando siete rientrati? Ci siamo guardati bene in faccia, ci siamo detti che così non va bene perché stiamo dando via tutto quello di buono che avevamo fatto nelle giornate d'andata, però siamo ancora lì, è tutto riaperto, ci sono ancora un sacco di partite e niente, dobbiamo darci una mano, la forza tra di noi per riuscire ad uscire da questo momento negativo e non attaccarci agli alibi. Tornando per un attimo alla partita di oggi, ti abbiamo visto anche in un ruolo un po' inconsueto per te, come attaccante aggiunto, figlio di questa emergenza che certo non aiuta il momento, come ti sei trovato là davanti, cercare di fare anche da sponda per i tuoi compagni? Il mister mi aveva chiesto questo sacrificio, io mi sono subito messo a disposizione della squadra, perché comunque l'obiettivo comune è quello, giocare in un ruolo o nell'altro non deve fare la differenza per nessuno, quindi mi sono messo a disposizione, ho cercato di fare il massimo possibile e niente, insomma, ho cercato di dare una mano alla squadra, magari a rifiatare, a salire, avendo anche qualche occasione, però insomma, purtroppo non è andata come volevamo e niente, è la colpa di tutti, anche mia, quindi bisogna assumersene le proprie responsabilità perché non abbiamo fatto il massimo. Adesso a testa basta e lavorare, perché domenica c'è un'altra partita importante come strano da qui alla fine contro il Camisano. Sì, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e rimetterci in corsa, in careggiata, perché appunto mancano un sacco di partite e l'unico, diciamo, metodo per uscirne è lavorare, lavorare, lavorare.